È diventato ormai il salotto culturale di Montevarchi, parliamo del vicolo dei Bardi che si trova all'interno di un'attività commerciale montevarchina storica, manucci, dove sporadicamente ma ogni tanto vengono artisti, scrittori per poter fare cultura, momenti di riflessione, momenti di cultura all'interno di uno storico vicolo che proprio questo venerdì 19 aprile è stato inaugurato con un momento dedicato a Oscar Montani e di suoi personaggi delle sue storie gialle. Oscar Montani è uno scrittore conosciuto, ha scritto due volumi importanti, due gialli, Nova Tempora e La ragazza dello scambio. E proprio in questa occasione il sindaco della città, Francesco Maria Grasso, ha inaugurato questo vicolo scoprendo appunto la storica targa Vicolo dei Bardi.